Anche il Presidente della Commissione Speciale Sanità del Comune di Nocera Inferiore, Vincenzo Stile, preme perché si arrivi al potenziamento del personale in servizio all'ospedale Umberto I. Il Presidio ospedaliero, ha detto Stile, è il secondo in provincia di Salerno e con le sue metodiche di eccellenza non può permettersi riduzioni di servizi e contrazioni di assistenza nel periodo estivo dovute alla carenza di personale. Queste situazioni determinano uno stato di precarietà che si riflette su utenze e personale determinando uno stato di emergenza cronico che abbiamo con il Sindaco Maglio Torquato più volte denunciato. Adesso che a livello campano stiamo uscendo fuori dall'emergenza del commissariamento grazie alla fattiva opera di riordino che è stata fatta dal Governatore della Regione Vincenzo De Luca, ha continuato stile, è ora di rimuovere tutti gli ostacoli che si pongono alla realizzazione delle graduatorie di mobilità e dei concorsi al più presto e con date certe, proprio per non vanificare tutti i sacrifici che sono stati fatti a livello gestionale e cercare di continuare l'opera che deve portare con l'uscita dal commissariamento la qualità dell'assistenza sanitaria in Campania. Stile invita i dirigenti dell'ASL Salerno e del Presidio ospedaliero a continuare il loro duro lavoro per ottemperare efficacemente al deficit di personale e a evitare che possa configurarsi un vero e proprio stato di emergenza. In rapporto al lavoro svolto da amministratori e professionalità dell'ospedale, l'Umberto I sia posto in condizione di esprimere tutte le sue potenzialità ed eccellenze come meritano Cera, l'Agro e tutta l'ASL Salerno, ha concluso Stile.